La comunità internazionale protesta contro il colpo di Stato che ha deposto il Presidente e il Primo Ministro del Burkina Faso a un mese dalle elezioni politiche. Il Presidente francese Hollande e il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon hanno condannato la sollevazione militare e chiesto la liberazione dei leader imprigionati a compiere il golpe militari della Guardia Presidenziale. Le forze patriottiche e democratiche che rappresentano tutte le componenti della nazione e sono riunite sotto il Consiglio Nazionale per la Democrazia, CND, hanno deciso di mettere fine al regime di transizione. Il Presidente di transizione è deposto e il Governo di transizione è disciolto. Il Presidente deposto Michel Cafando aveva preso il posto del predecessore Blaise Compaoré che aveva lasciato il potere l'anno scorso dopo che nel paese era scoppiata una rivolta popolare contro il suo tentativo di modificare la Costituzione per farsi rieleggere. Ieri una manifestazione in favore di Cafando è stata repressa dai militari con colpi d'arma da fuoco.